Come sta vivendo il campionato del Bari? Cosa ha provato quando ha visto partire dalla Serie D? E' chiaro che mi piangeva il cuore, ma adesso poi è passato, il lutto è passato come fa parte della nostra vita. Io seguo domenicalmente, ho fatto al buonamento pure, mi porta presso il mio cellulare, ovunque mi trovo apro perché quando vedo che il Bari cresce, il Bari è la mia vita, è la vita della famiglia Materresti, mio fratello Vincenzo, quindi come si può dimenticare. E quindi il tifo è continuo, è l'aspirazione di risalire per tornare a quei vecchi fasti di una volta che ha fatto grande questa città calcistica, che ha fatto grande questo nome che ho l'onore di portare ancora insieme.